Entro 20 mesi dovrebbero essere conclusi i lavori della variante all'abitato di quadri sulla Fondovalle Sangro. Credo che sia una notizia molto importante per due aspetti, perché bisogna liberare quadri da un traffico incessante, pesante e pericoloso per la salute dei cittadini di quell'abitato. Ieri c'è stato un vertice in prefettura, ho parlato direttamente con il direttore tecnico dell'ANAS che mi ha assicurato che nei prossimi giorni il finanziamento di 10 milioni circa verrà approvato dal consiglio di amministrazione della stessa azienda per le strade, ma soprattutto c'è l'impegno a realizzare celermente con una scadenza di 20 mesi quest'opera molto attesa per completare o per definire una parte importante della Fondovalle Sangro. Intanto abbiamo chiesto all'ANAS di contribuire attraverso la realizzazione di un tappetino d'asfalto fonoassorbente che dovrà essere sistemato nell'abitato di quadri per così attenuare questo inquinamento acustico che soprattutto nelle ore notturne mette a dura prova la pazienza dei cittadini di quadri.